Matteo Renzi da qualche ora è sbarcato a Sciacca. Ci sarà anche lui stasera tra gli ospiti di lusso del Google Camp, l'evento mondano internazionale in programma in Piazza Angelo Scandaliato. Presidente del Consiglio è arrivato poco dopo alle 8.30 al Verdura Golf & Spa Resort. Potrebbe essere per Renzi una sorta di prova generale del G7 che l'anno prossimo si svolgerà a Taormina, malgrado che il Google Camp sia sicuramente un evento a più glamour, anche se non meno blindato del vertice dei capi di Stato di tutto il mondo. Cresce la curiosità intanto attorno a stasera in una festa privata che vedrà radunarsi nello stesso luogo capitani di industria e personaggi dello spettacolo, manager dell'altissima finanza e protagonisti dello sport. Alicia Kiss, Giovanotti, Pharrell Williams, John Elkan, Charlize Theron, la principessa Rania di Giordania che stamattina sarebbe stata avvistata in centro storico alla ricerca di una parrucchieria. Sono solo alcuni dei nomi che circolano e che permetteranno al nome di Sciacca e al suo panorama naturale di essere annotate da persone sicuramente di alto livello che conoscono il mondo. Il nostro telegiornale sin dal primo momento ha ritenuto che questa iniziativa, altremodo discussa come tutte le cose che riguardano Sciacca, rappresentasse una buona opportunità per il territorio e non solo per un fatto prettamente economico, visto il buon riscontro in termini di pagamento di suolo pubblico e di rifacimento dei bagni. Francamente continuiamo a pensarla così e lo diciamo precisando che non siamo stati invitati, né abbiamo cercato di esserlo, né moriamo dalla voglia di vedere quello che accadrà. I saccensi tra pochi giorni dimenticheranno i disagi che ci sono stati collegati alla necessità della società Google di organizzare l'evento e di proteggere i suoi ospiti, dimenticheranno anche la ridda di commenti e dibattiti che nella città del Carnevale domina su qualunque argomento. Non è comprensibile la piega che ha preso il dibattito soprattutto sui social, sia sulla qualità della festa, qualcuno oggi opina che le luminarie sarebbero un po' troppo kitsch, ma si sa, i gusti sono gusti, perfino quelli dei ricchi, sia sull'esigenza di mettere a disposizione la Gorà della città, l'anima di Sciacca. Un punto questo che va chiuso sul piano culturale perché non possiamo lamentarci che il Google Camp per due anni si sia svolto lontano da Sciacca giocando su un complesso di inferiorità che è quello che a molti saccensi piace da morire e poi lamentarci per qualche disagio che stiamo vivendo quando l'evento si organizza a Sciacca. E smettiamola con i piagnistei, smettiamola di sentirci quasi usurpati dalla piazza, cerchiamo piuttosto di sentirci lusingati per il fatto che c'è gente proveniente da ogni parte del pianeta che stasera ammirerà il nostro splendido panorama. Quello che talvolta a noi passa inosservato e se per una sera non potremo farci una vasca in piazza non sarà stata la fine del mondo, domani un altro giorno e torneremo a pensare ai problemi di sempre che appassionano meno questa città di Sciacca ma che, ve lo garantiamo, sono decisamente più importante del Google Camp.